buongiorno a tutti oggi vorrei parlarvi del contratto discografico nell'interesse dell'artista ho voluto dare un taglio diverso rispetto agli altri video che ho visto essere stati pubblicati sul web perché vorrei cercare di non essere molto teorico ma pratico nel momento in cui ad un artista arriva un contratto di 20 pagine composto da contenuti giuridici abbastanza tecnici chiaro è che l'artista magari assistito dal suo manager o avvocato comunque debbano vederci chiaro e quindi è bene che l'artista ma soprattutto gli emergenti che si trovano davanti a una realtà sconosciuta ossia quella contrattuale quindi mi immagino i rapper del momento che a 17 anni coronano il sogno della propria vita ossia quello di stipulare un contratto con una major devono sapere cosa stanno firmando dunque andiamo subito al punto contratto discografico il contratto discografico ha oggetto la consegna o la registrazione di fonogrammi di brani che compongono un album quindi l'opera musicale opera musicale fatta da melodie armonie talvolta anche dalle parole dall'altra parte ci sono c'è l'artista interprete esecutore talvolta nei contratti l'artista viene rappresentato da una propria società a lui collegata dall'altra parte abbiamo generalmente le case discografiche autonome major cosa differenzia un contratto discografico in di licenza da quello in casting ossia quello di produzione fonografica la differenza la differenza la produzione la proprietà dei fonogrammi infatti l'artista che coi suoi soldini noleggia affitto uno studio di registrazione sopporta i costi di produzione diviene proprietario del fonogramma e può licenziarlo in quel caso quindi avremmo un contratto di licenza con la casa discografica poiché l'artista proprietario del fonogramma concede in licenza l'opera musicale alla casa discografica nell'altro caso invece in cui per motivi svariati economici di affidabilità di affidamento alla casa discografica un artista volesse impegnarsi a fornire delle registrazioni che però a livello di costi a livello di e quindi anche di proprietà venissero supportati da una casa discografica in questo caso avremmo un contratto di casting nel contratto di casting quindi la casa discografica risulterebbe proprietaria del fonogramma quindi pagherebbe i costi anche di studio i costi di registrazione i costi di produzione i pochi costi anche di eventuali collaborazioni dette anche featuring ecco qui formatisi due contratti contratto in licenza e contratto in casting il contratto di produzione fonografica laddove nel contratto di licenza abbiamo detto che proprietario del fonogramma è l'artista nell'altro caso invece proprietario del fonogramma è la casa discografica andiamo a vederlo il contratto ora il contratto discografico ha appunto quei dieci punti essenziali iniziamo dalle parti le parti come abbiamo detto sono da un lato l'artista talvolta rappresentato dalla società e quindi esempio se l'artista fosse il sottoscritto non ci sarebbe il nome cristiano magaletti ma ci sarebbe la magaletti srl bene società resta collegata società cessionaria dei diritti di tutti i diritti connessi tra cui anche i diritti discografici e in quel caso la parte contrattuale lato artistico sarebbe la società quando succede questo l'altra parte che la casa discografica richiede visto che il contratto ha degli impegni richiede che l'artista all'attere sottoscriva una sorta di impegno personale perché ovviamente la classe discografica impegnandosi con una società con un srl che ha una responsabilità limitata non ha tutte le garanzie e quindi va a cercarle va a richiederle all'artista quindi spesso quando parte contrattuale risulti essere una società e non un artista all'attere ci sarà un impegno talvolta alcuni richiedono una fideiussione perché ovviamente la classe discografica spende dei soldi corrisponde dei compensi a questa società e ovviamente non è garantita perché la garanzia c'è solamente nel momento in cui è l'artista stesso a firmarlo e quindi fa firmare un foglio all'attere dove anche l'artista si impegna a eseguire le opere per la società a lui collegata dall'altra parte invece come sappiamo abbiamo detto abbiamo la casa discografica le major universal sony warner case discografiche anche autonome carosello believe digital ne abbiamo un bel po in italia sotto il riquadro delle parti abbiamo le premesse e la premessa più importante è proprio quella che differisce il contratto tra licenza e casting ossia la premessa relativa alla proprietà dei fonogrammi quindi quando leggeremo che è premesso che proprietario del fonogramma è ex articolo 78 legge edito l'autore la casa discografica in quel caso sappiamo che ci troviamo di fronte a un contratto di casting e non un contratto di licenza andiamo all'oggetto del contratto oggetto del contratto solitamente è l'album l'opera musicale che in caso di di licenza viene licenziata concessa in licenza quindi il proprietario del fonogramma che l'artista la concede in licenza al alla casa discografica nell'altro caso invece l'artista che si impegna a produrre per conto della casa discografica che rimarrebbe proprietario del fonogramma scusate se lo ripeto tante volte ma è molto importante perché qui capiamo la differenza tra licenza e casting tra proprietà dei fonogrammi da parte dell'artista o della casa discografica l'oggetto del contratto può essere un album due album oppure anche due album più un album a recupero perché album a recupero cos'è l'album a recupero l'album a recupero è una concessione che l'artista devolve da alla casa discografica nel caso in cui il corrispettivo la somma erogata dalla casa discografica in favore dell'artista fosse superiore a recuperato mi spiego meglio la casa discografica corrisponde un compenso all'artista 50.000 euro 500.000 euro qualora l'artista dalla vendita dell'opera musicale degli album non riuscisse a recuperare quella somma si impegnerà a concedere alla casa discografica ulteriori operi musicali che possono possono essere un inedito tre inediti cinque inediti un ulteriore album un grittis in questa maniera la casa discografica si tutela perché ovviamente avendo sopportato dei costi e non essendo riuscita a recuperarli comunque si dà un ulteriore chance con un ulteriore opera musicale che può portare appunto al recupero addirittura al profitto altra clausola banale ovviamente è quella dell'esclusiva la casa discografica ovviamente detiene l'esclusiva delle opere musicali dell'artista per opere musicali intendiamo qualsiasi quindi la voce anche dell'artista oltre che lo pseudonimo oltre che l'immagine relativamente al ai diritti discografici chiaro è che se io firmo con una casa discografica un progetto devo concedere l'esclusiva non è possibile che poi l'indomani dopo aver firmato un contratto discografico con universal mi si veda insoni per dire quindi legittima è questa clausola esclusiva che è legata al progetto dopodiché abbiamo entriamo nel merito del contratto quindi in quello che più interessa agli artisti ossia promozione videoclip minimo garantito product placement quindi tutto ciò che riguarda l'operatività del contratto nel caso in cui fossimo in casting tutti i costi qualsiasi tipo di costo relativo alla produzione alla pubblicazione quindi la fissazione della voce sul supporto fisico sul digitale o anche la commercializzazione qualsiasi costo ripeto sarà a carico della casa discografica differente invece il caso in cui il contratto fosse di licenza in quell'altro caso ci sarebbe una identificazione di un budget che la casa discografica pone a disposizione del progetto e superata la quale sarà cura interesse e onere dell'artista colmare l'eventuale differenza quindi un esempio la casa discografica nel caso di licenza garantisce tramite la propria struttura un progetto di marketing che viene però gestito e deciso nella quasi totalità dalla casa discografica un progetto di comunicazione con l'ufficio stampa e quindi identifica un importo nella somma di 20 30 50 mila euro da destinare a un videoclip piuttosto che due videoclip piuttosto che sei mesi di ufficio stampa piuttosto che marketing promozione del del progetto qual si voglia ulteriore iniziativa quindi un ufficio stampa esterno piuttosto che un progetto marketing differente e ulteriore rispetto a quello che viene proposto dalla casa discografica quale può essere una fissione un acquisto su un quotidiano di una pagina per promuovere il singolo in caso di licenza sarà a carico dell'artista ulteriore clausola è quella del corrispettivo del minimo garantito per minimo garantito si intende l'importo che a prescindere dalla bontà del progetto dal successo dal realizzo dalle vendite viene corrisposto all'artista che è differente ovviamente in caso di licenza e di casting perché in caso di licenza sarà più alto perché la casa discografica non dovrà sopportare tutti i costi che invece sopporta che sono quelli di, ripeto, produzione, pubblicazione, fisazione, su digitale, su fisico commercializzazione, promozione quindi questo qui è il compenso minimo garantito che viene comunque corrisposto a un artista dopodiché c'è il corrispettivo il corrispettivo sono le cosiddette royalties che variano in base alla fissazione su fisico e digitale o in base al canale di realizzo per dire compilation e quindi leggeremo le percentuali che cambiano a seconda del canale di distribuzione la scelta delle opere da pubblicare invece è un'altra clausola e in questo caso spetta sempre alla casa discografica che ha l'ultima parola su ciò che andrà sul mercato un'ulteriore attenzione gli artisti dovranno dedicarla al procaccio alla clausola agenzia, alla clausola management perché? perché succede che molte case discografiche si propongano per velocizzare l'abbattimento dei costi si propongano come agenti occhio perché un conto è fornire dare la possibilità, concedere alle case discografiche di poter vendere anche l'immagine dell'artista e quindi sostituirsi se vogliamo al manager o alla società di management dell'artista ma è importante che ciò non sia in esclusiva perché altrimenti l'artista è totalmente nelle mani delle case discografiche molte case discografiche si propongono in questa maniera ma le due clausole che io sempre tendo a trattare ed evitare che vengano inserite nel contratto sono primo questa clausola di esclusiva del management o di una parte dei proventi derivanti dall'attività dell'artista tipo i live questa non dovrà mai essere concessa in esclusiva alla case discografica ulteriore clausola da evitare è quella dell'opzione nei contratti bisogna sempre prediligere la clausola della prelazione e non quella dell'opzione perché per opzione l'artista si impegna a totale discrezione della case discografica ad essere vincolato alle stesse condizioni delle precedenti del contratto invece con la prelazione lo dice la parola stessa quindi la clausola giuridica va molto nota a tutti con la prelazione c'è una sorta di asta permettetemi di dirlo ossia si parte dall'offerta dove il soggetto privilegiato è la case discografica con la quale è stato chiuso il contratto ma qualora ci fosse un terzo che si offrisse di proporre una somma superiore a quella della parte contrattuale sarà la casa discografica parte contrattuale dell'artista a dover pareggiare e quindi a dover a dover mettere dei soldini in più per porsi allo stesso al pari dell'offerta del terzo e quindi in quel caso avrebbe esercitato il diritto di prelazione molto importante questo perché in quel caso nel momento in cui un progetto discografico di un artista dovesse decollare in caso di opzione l'artista riceverebbe le stesse condizioni contrattuali ma ovviamente con un valore totalmente diverso in caso di prelazione invece si porrebbe sul mercato e quindi riceverebbe certamente il giusto compenso che rispecchi il valore attuale dell'artista ulteriori clausole sono le solite ossia il recesso o la clausola risolutiva espressa in caso di inadempimento ma lì non vorrei soffermarmi più di tanto perché ovviamente nel caso in cui l'artista violasse delle clausole importanti tipo l'esclusiva o la mancata consegna dei brani ovvio è che incorrerebbe in segno di inadempiente in una risoluzione anche in effetti risarcitori l'unica specifica relativamente a quindi l'unico suggerimento che che do quando si parla quando c'è sul capitolo il la clausola risolutiva espressa in caso di inadempimento contrattuale io tendo sempre a specificare nei contratti dei miei artisti il grave inadempimento quindi solitamente ci sono clausole generiche dove si parla di inadempimento a qualsivoglia tipo di clausola contrattuale no esporrebbe molto esporrebbe l'artista a qualsivoglia tipo di effetto risarcitorio invece no la clausola risolutiva espressa quindi la legittimità di risolvere il contratto da parte della cassa discografica dovrebbe sussistere solo quando l'artista effettui dei gravi inadempimenti quali possano essere appunto l'esclusivo o la mancata consegna dell'opera musicale un ulteriore e ultimo aspetto è quello delle sincronizzazioni e del product placement soprattutto questo avviene all'interno dei videoclip il videoclip talvolta oltre a produrre monetizzazioni in base alle visualizzazioni che maturano sui canali possono essere monetizzati tramite sincronizzazione tramite sincronizzazione cos'è la sincronizzazione la sincronizzazione è l'avvinamento del brano ad un filmato di un'immagine e quindi talvolta la pubblicità a film implica ovviamente un una regolamentazione poiché viene venduto un un aspetto dell'opera e quindi viene quotata ed è oggetto del contratto quindi nel caso di casting ovviamente l'opera musicale è totalmente nelle mani della casa discografica che potrà vendere appunto promuovere vendere la sincronizzazione a terzi e in questo in questa clausola va sempre inserito che per qualsivoglia tipo di commercializzazione ci dovrà essere l'autorizzazione dell'artista perché l'artista ovviamente si crea un profilo un'immagine non potrà vedere la propria opera venduta per prodotti pubblicitari per film che magari non siano in linea con la propria immagine e che possano addirittura crearli o lederli in l'immagine l'altro aspetto che abbiamo detto riguardo i videoclip e quindi i product placement e i product placement sono appunto i prodotti legati a dei brand che vengono inseriti all'interno dei dei videoclip qui dovremmo aprire un altro un altro discorso un altro tema che verrà trattato da me e dai miei collaboratori e che ultimamente insomma è stato oggetto di attenzione da parte dell'antitrust ossia sulla regolamentazione dei product placement all'interno dei videoclip ma teniamoci solamente a contatto discografico e anche qui per quel che riguarda questa clausola certamente dipende dal contratto di licenza o casting perché nel caso di casting il product placement sono comunque rientrano nel appunto nella nella sfera economica della cassa discografica in caso di licenza invece sono oggetto di trattativa anche qui un consiglio è quello di inserire anche nei contratti di casting dove la totalità dei proventi del product placement dovrebbe confluire nelle casse della cassa discografica inserirei comunque una clausola per cui nel caso di procaccio da parte dell'artista o del proprio team comunque aspetterebbe l'artista una fi di procaccio spero di essere stato chiaro e di essere stato d'aiuto per le artisti perché comunque ripeto questo video non è un video teorico ma che cerca di individuare quelli che possano essere dei tra virgolette tra bocchetti delle insidie che appunto graverebbero in capo l'artista e comunque insomma spero di essere stato appunto utile e non noioso al prossimo video ciao